Benvenuti a questo primo appuntamento 2019 con Settimanalis, il Tgweb per sordi della provincia di Catanzaro. Abuso d'ufficio, favoreggiamento mafioso, corruzione semplice e in atti giudiziari. Sarebbero questi i reati contestati a 15 magistrati in servizio in Calabria e ora indagati dalla Tribunale di Salerno. Tra gli indagati il procuratore aggiunto di Catanzaro, il procuratore capo di Cosenza e quello di Castrovillari. Il loro coinvolgimento riguarderebbe uffici del capoluogo di Crotone e di Cosenza. Scontro tra il Ministro della Salute Grillo ed il Presidente della Regione Calabria, Oliverio, sulle nomine dei direttori generali delle aziende ospedaliere e di quelle sanitarie. Secondo il Ministro, gli incarichi sono stati assegnati senza aver interpellato il commissario della Sanità Cotticelli ed il suo vice. Il Governatore infatti ha nominato tramite l'Aggiunta Fico all'Asp di Catanzaro, Caligiuri all'Asp di Vibo Valencia, Graziano a quella di Crotone, all'azienda ospedaliera Mater Domini di Catanzaro De Filippo, all'Azienda ospedaliera di Cosenza Gentile, a quella di Reggio Preianò, mentre all'Asp di Cosenza confermato Mauro. Il Partito Democratico Calabrese è stato commissariato. Lo ha deciso il Presidente del Partito Orfini durante la riunione tenutasi a Roma nella giornata di mercoledì scorso. In pole position per l'incarico, l'ex senatore Stefano Esposito, che sembra però abbia già rinunciato. Al suo posto Stefano Graziano, consigliere regionale in Campania. Il PD calabrese è senza segretario regionale da circa un anno. L'assessore all'istruzione e attività culturali della Regione Calabria Corigliano ha interpellato il Premier Conte ed il Presidente dell'Unione Province Italiane sulla suddivisione del Fondo Statale per le Regioni riguardo le funzioni relative all'assistenza degli alunni con disabilità. Attraverso una lettera, l'assessore ha sottolineato la difficile situazione in cui, sin dai prossimi giorni, potrebbero trovarsi gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che necessitano di assistenza. Ancora cronaca, rimangono in carcere le 12 persone coinvolte nell'operazione Reventinum e fermate lo scorso 10 gennaio. Tutti i soggetti sono accusati dalla DDA di Catanzaro di associazione di tipo mafioso e a vario titolo di sequestro di persona, violenza privata ed estorsione. Ancora danneggiamento a seguito di incendio, detenzione illegale di armi aggravate dal metodo e dalla finalità mafiosa. Il GIP di Lamezia ha trasmesso gli atti al collega distrettuale di Catanzaro in quanto agli indagati viene contestato anche il 416 bis. Un anziano di Martirano Lombardo nel Catanzarese è rimasto intossicato dal monossido di carbonio sprigionatosi da un bracere. L'uomo impegnato in piccoli lavori domestici si era chiuso in un garage a causa del freddo. La moglie non vedendolo tornare a casa si è recata nel magazzino rinvenendo il coniuge privo di conoscenza. Grazie all'aiuto dei vicini sono stati allertati sanitari del 118 che hanno dapprima prestato le prime cure, poi trasportato il marito della signora all'ospedale di Lamezia Terme. L'anziano, dopo i primi accertamenti, è stato sottoposto a terapia iperbarica a Messina. Un centinaio di uomini tra polizia, carabinieri e guardia di finanza sono stati impegnati in un controllo straordinario avvenuto in Viale Isonso nei quartieri a sud di Catanzaro. Diversi gli arresti eseguiti dagli agenti presenti sul posto, anche tecnici Enel e Ditalgas. Nei giorni scorsi, sempre nella stessa zona, numerose attrezzature da lavoro rubate e probabilmente utilizzate anche per effettuare rapine, erano state rinvenute e sequestrate dalla polizia in un edificio composto da vari alloggi, tra i quali molti disabitati. È stata denunciata a piede libero dai carabinieri della stazione di Catanzaro Lido una 38enne di nazionalità italiana. La donna, già con precedenti, fingendosi badante, è entrata a casa di un anziano sottraendo effetti personali, un libretto postale di risparmio ed una carta a bancomat. Ad accorgersi di tutto, la figlia del 94enne che ha denunciato i fatti ai carabinieri. I militari, dopo indagini e dopo l'analisi di videosorveglianza, hanno identificato la responsabile che già nelle ore precedenti aveva prelevato circa 1000 euro usando il bancomat del povero anziano. Un incendio si è verificato a Simeri Cricchi, nel Catanzarese, ad andare in fiamme la capanna della natività del locale presepe vivente. Gli abitanti del comune, dopo aver notato il fumo e le fiamme provenienti dai pressi della chiesa, hanno cercato di spegnere il rogo con alcuni secchi d'acqua. I vigili, giunti sul posto con l'aiuto di un'autopompa, hanno domato l'incendio e messo in sicurezza l'aria. La struttura era già in fase di smontaggio. Sull'episodio indagano i carabinieri, anche se dalle prime indagini sembra ci sia la mano dei soliti vandali. I carabinieri di Lamezia Terme hanno arrestato un giovane di 29 anni per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane, già conosciuto per precedenti a suo carico ed in evidente stato di alterazione causato da abuso di sostanze alcoliche, ha aggredito con spintoni e calci i militari che erano giunti nei pressi di un locale notturno del quartiere Nicastro per una lite scoppiata in precedenza. Condotto con qualche difficoltà in caserma, per il ragazzo sono scattati gli arresti domiciliari. Lavoratori stagionali della SACAL di Lamezia Terme sul piede di guerra per richiedere la stabilizzazione del personale e dire basta alla precarietà che dura ormai da diversi anni. Un gruppo di dipendenti si è ritrovato davanti all'aerostazione Lametina per una manifestazione di protesta che è stata supportata dal sindacato confintesa. Molti gli striscioni dei lavoratori per esternare il proprio malcontento. Il sitina, nonostante la situazione delicata, si è svolto in maniera del tutto pacifica. Con una nota apparsa sul proprio profilo Facebook, il sindaco di Soverato Alecci ha confermato che la città ionica catanzarese è stata ammessa a due importanti finanziamenti in tema di strutture scolastiche. Si tratta della scuola di via Ugo Foscolo e dell'asilo Padre Pio, per i quali sono stati concessi circa 4 milioni di euro. Nuova direttrice al Polo Museale della Calabria, l'ente che coordina le attività dei musei calabresi. Al posto di Angela Accordon, che ha lasciato l'incarico ad inizio anno, arriva Antonella Cucciniello, dal 2015 al 2018 alla guida del Palazzo Reale di Napoli. Rimaniamo in tema culturale a Catanzaro, dal 5 al 31 marzo prossimi, presso il centro polivalente di via Fontana Vecchia, si terrà la mostra internazionale, composta da 36 opere, dedicata alle bellezze del mondo e agli effetti prodotti dall'uomo e dalle materie plastiche sulla Terra. L'esposizione è stata resa possibile grazie all'accordo tra Blue Ocean e National Geographic e dalle immagini di Randy Olson. Per sensibilizzare la cittadinanza saranno invitati anche gli studenti di tutti gli istituti scolastici. Chiudiamo con lo sport ed il calcio. Con la fine della lunga pausa di fine anno, riprende in questo fine settimana il campionato di Serie C. Il Catanzaro si prepara ad un autentico tour de force. Domenica 20 e 27 gennaio, appuntamenti al Ceravolo contro Rende e Casertana. Mentre mercoledì 23, le Aquile saranno impegnate nel turno infrasettimanale sul campo della Vibonese. Mercoledì 30 gennaio, infine, turno secco di Coppa Italia a Catania. Il giorno dopo sarà anche l'ultimo di mercato una fase di calcio-mercato dal quale mister Auteri e di tifosi attendono dalla società i rinforzi adeguati per una squadra già eccellente in grado di competere fino al termine del torneo. Era l'ultima notizia, grazie per averci sentito. Appuntamento alla prossima edizione di Settimanalis. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti.